Torna anche a Sondrio la colletta alimentare. Sì, anche quest'anno nella nostra provincia sarà possibile partecipare negli oltre 100 punti vendita che aderiranno all'iniziativa donando cibo per i più poveri, sia sul territorio nostro che anche per i territori limitrofi. Parteciperanno al solito l'associazione come gli Alpini, la Croce Rossa e l'associazione di volontariato che al solito ci danno una mano riguardo. Saranno richiesti i soliti cibi, quindi fondamentalmente pasta, olio, pelati, alimenti per l'infanzia e comunque sui volantini dei punti vendita aderenti sarà possibile trovare le indicazioni di cosa è richiesto. Un particolare ringraziamento quest'anno lo facciamo anche alla Banca Popolare di Sondrio che ci ospiterà in un suo magazzino per poter gestire tutta la raccolta degli alimenti che poi verranno smistati. È ancora possibile partecipare come volontari e quanti sono i punti in tutta la provincia? È possibile ancora iscriversi come volontari per questa iniziativa tramite il sito di Banco Alimentare e sempre tramite il sito è possibile scegliere anche su che punto vendita aderente si può andare a fare i volontari. Questo è possibile fino a ridosso della colletta che sarà il 16 novembre. I punti vendita che parteciperanno sono 100 e passeranno da Isolaccia fino ad arrivare a Madesimo. Qual è l'apporto di Croce Rossa in questa colletta alimentare? Forniamo i mezzi per il trasporto e camion e forniamo naturalmente anche i volontari sia presso i supermercati che presso il magazzino. Chiedo a tutti veramente di partecipare, di essere generosi. La colletta è un aiuto prezioso, insostituibile, fondamentale per l'assistenza che forniamo anche noi su questo territorio per circa 160 famiglie. Anche quest'anno, come dico sempre io, dallo Spluga allo Stelvio, 500 alpini saranno al servizio del Banco Alimentare proprio per, col nostro cappello, invogliare un po' la gente a donare come siamo abituati a fare noi alpini. Questo lo facciamo da anni e anche questo 2024, in cui in oltre 100 punti di raccolta ci saremo. Grazie. Grazie.